In compagnia del mister, raggiante per la vittoria del Mozannica contro il Graffi Studio Campania. Tre reti per la prima di campionato contro il City Hall Winterdamen, tre reti alla terza di campionato qui in casa. Peccato lo stop di domenica scorsa. Sì, lo stop ce lo siamo creati perché alla fine quando apri una partita sul 2-1 e hai 40 minuti e nel giro di 5 minuti ci facciamo espellere, probabilmente siamo ancora una squadra non matura e non ancora all'altezza di essere compatte per vincere questo campionato. Secondo me bisogna migliorare proprio, è un fattore mentale perché anche oggi si è ripetuta la stessa. Io sono contento per la vittoria ma non soddisfatto proprio per niente per quello che vedo in campo. Cioè 5 minuti dalla fine, una ragazza che è già munita, con le raccomandazioni che ho fatto riusciamo a giocare in 10. Quindi sempre col senno di poi, ma bisogna essere più concreti, bisogna guardare nel futuro, ogni domenica per domenica. Adesso domenica avremo una partita importante a Cervia dove siamo in emergenza. ma veramente tre titolari sono fuori, ma ce ne siamo andati a cercare. Ecco io batterò il chiodo su questo aspetto, la squadra è immatura.